Musica Onlycraps, bici suanti ragazzi, io sono Bezzbossa e sono tornato con il ventesimo episodio dei miei retipi di Pokémon Rubino 2 Allora, ci sono lasciati che sono tornato indietro all'inizio del percorso 118, anzi direi che adesso possiamo approcciarci al percorso 119 E ho mandato Machamp su di un livello 93, perché ve l'avevo detto che l'avrei fatto Nulla, andiamo avanti ragazzi, poche prem... Come non ancora? Ah, ok, oh mio Dio Ah, ok, quindi mi stai dicendo che devo obbligatoriamente andare a destra di questo percorso e devo andare per di qua Bene, meno male ragazzi, perché vi giuro che me l'ho dimenticato che si poteva andare avanti per di qua Vero? Vediamo un po' Prima farò il Montepirla, eh, il Montepirlo ovviamente Clown c'era il 40, che si voleva in Clayweiser? Me lo sono già scordato Quanti Pokémon selvatici? Qua sì che uso un repellente Cos'è questa stranaura che sento? Siamo per venire qui vicino Sì, è proprio, ha un'aura potentissima letteralmente Uso un brevissimo repellente Super repellente, dai, così togliamo uno spazietto Sono le rocce buggate Wow Andiamo su Montepira Allora Questa è molto simile alla torre di Lavandonia Prima per di qua Uffa però gioco, fammi fare qualcosa Eh però Scusate ragazzi Ho appena avuto un sorso d'acqua e mi sta tornando su Sono dei piccoli ruttini Allora Litwick al 41 Sabiamo benissimo che è Gastly Litwick al 42 Deducola Litwick al 43 No scherzo, no scherzo, non è vero Shappet al 41 Certo un Bennett non è male come Pokémon sinceramente Dovrebbe avere 115 di attacco fisico base Dusclops a levitazione e un botto di difese Finora abbiamo Shappet, Litwick e Dusclops Strano che non ci sia Duscul Forse adesso me lo chiamo E infatti E poi Aprova sconfiggere un Dusclops con una frana Non l'ha retta Un bel po' di esperienza mi dà Per il livello un bel po' ragazzi Andiamo avanti Allora E qui invece abbiamo Ah ok Beh qui andrò avanti sinceramente Ok Ehm Cos'era? Mi pare fosse baratto Alla memoria Non mi inganna mai Cadabra dà un sacco di esperienza Pensavo di più sinceramente Boh Dusclops Ok Ora dovrebbe comparire la nebbiolina Strano Adesso? Ah ok Mi ricordo avevo sbagliato Allora qui Dove essere posizione max Bueno Molto bueno Qui Ultra Ball E qui Etre Max Perfetto Non c'è altro vero Andiamo Montepira Oh Di già Chi sei? Come hai fatto a capire dove eravamo nascosti? Questa frase non è standard È nuova E infatti li ha i 70 i pokemon Direi di fare una bella frana super efficace Senza rischiare di lasciare la vita con forza Direi di fare un'altra frana sperando che non fallisca Il 10% è dietro l'angolo E un bell'Arcanine Peccato mi riduce l'attacco ma terremoto penso basti Ottimo Ok Camerab Salirà il 96 con pokemon selvatici Ora tocca cacturn Allora vediamo un po' 885.000 Lui ci arriverà Sì direi che tocca cacturn Due livelletti Penso di farlo salire Odio essere alleato con il team magma Capisco cosa vuoi Capisco Quello che provi Diamo con un missile spillo Ah Sono quasi stato fortunato Faccio semitraglia Perché ha più punti potenza di Bugnospine che non gli ho ancora tolto però Perché ci sto pensando ragazzi Per esempio con Bugnospine lo one shot Esatto Anche con Ovviamente con Semitraglia E anche con gigasorrivento lo one shoterei Allora qui non ci sono pokemon Cioè strumenti nascosti Però in quest'area sono sicuro Che ci sono pokemon diversi Perché io mi ricordo Che questa è l'area in cui Surubino, Zaffiro e Smeraldo Si trova a Chime Con l'unica area Quindi forse Ci potrebbe essere di pokemon diversi Ma mi pare di no Forse è una grandissima Cavolata Cavolicchiata Allora qui non mi ricordo Quello strumento Perfetto No lo zaino Troppo Troppo Pieno Devo disfarmi di qualcosa E la cosa di cui mi disfarai Quasi quasi è la funi di fuga La pietra dura potrei darla A tiranitar Per la Per la lega pokemon La carbonella Magari Si Beh rapidartigli La cresci k La cresci k O la calmanella Si penso che butterò via La funi di fuga Ok che sono utili Ok Ok che sono utili Stavo dicendo Però sono utili Se ne ho qualcuna in più Sapete com'è Ok Allora devo mettermi qui all'orlo In modo che lui mi liberi la strada Ovviamente me le libero Ah era un magma tenente Aia È più veloce di me Oh mio dio Ha fallito No non posso rischiare A parte che il turbo fuoco Non è che toglie Così tanto E anche attacco d'ala Nonostante sia stabato Purtroppo camera E purtroppo Charlie Ho letto camera appunto Charlie Zard non gode Di un attacco fisico così alto Mentre con camera Cambierei E metterei Ehm Cioè mi farebbe un culo Grande come una casa A cacturn Potrei mettermi machamp Dai faccio un incrocolpo Mi rischio il dinamipugno Ma cazzo Lo rischio ancora Ok Bastava l'incrocolpo Disgraziato Piano con le parole Io non ti ho offeso però Guarda te Questi Questi stronzetti Caramella rara Così dovrebbe essere Anci Cosa sto vedendo lì Nell'angol Nell'angolino Tua sorella Un angolino Ho sei caramelle rare Mi ricordavo Juist Bene Mi aspetto una lotta Molto difficile Qui non ci dovrebbe essere Strumenti E non ho iperpozioni Perché non ho ancora Incontrato una benedetta città Che me le venda In realtà Ne ho già incontrata una Ma purtroppo Non era Facilmente raggiungibile Mi seccava abbastanza Quindi Procediamo con le bacca cedro A Machamp Ma si dai No Usa E non è USA Usa anche H Giuste Guardate ragazzi 40 E altri 30 PS Giusti Giusti Allora io mi sento Che parte con Rayquaza Quindi Potrei mettere Tyrannitar So che va porno C'è geloraggio Ma non voglio Allenarlo Ulteriormente Provo a fare Dei save state Ragazzi Hey Cosa state combinando Questa volta Ma quello è Piacere di conoscerti Caro ragazzo Il mio nome è Max Ti stai facendo un nome Sai Lascia che ti racconti Un po' della nostra storia Siamo due team Che hanno avuto poco successo Con tre c Qui Ma stavolta non falliremo Tre anni fa Con l'accento Oh mio dio Agimmo in modo Confus Confusionario Confusionario E facciamo le mosse sbagliate Chiogre con la i E Groudon O Kaiogre E Groudon Si ribellarono A nostro potere Fumo sconfitti Ma ora Che cazzo di senso A metterci Ma ora Ora abbiamo capito Dov'è il vero potere Raiquaza Lui è la chiave di tutto Il pokemon leggendario Più forte della regione Proprio per colpa sua Tre anni fa Con l'accento Fallimmo Ora siamo riusciti Finalmente a controllarlo Il mio collega Ivan Ti spiegherà il resto Ti chiederei Cosa centri tu In tutto questo Che poi non ho capito mai Se centri Si scrive con l'apostrofo Oppure no Esiste il verbo Centrare Però potrebbe anche essere C apostrofo Entrare Ma comunque Beh Raiquaza Ha riconosciuto in te Il principale pericolo Per noi Quindi Ti abbiamo tirato qui Per eliminare il problema Al nascere Useremo il potere Di Raiquaza Per eliminarti Ti distruggeremo Oh no Us Non me lo sarei mai aspettato Raiquaza E' 70 Mi sa che ho sbagliato qualcosa Come cavolo è possibile Di aver Cioè Io credo Di aver sbagliato qualcosa Non lo so Io non velocizzo Perché voglio vedere La sua vita scendere Con un solo frana Devo aver sbagliato qualcosa Ragazzi E beh Ovvio che ho avuto La meglio Una cosa Alquanto inaspettata Mica tanto Sinceramente Mica tanto Idiota Ancora non hai imparato Di usare bene Il suo potere Fammi provare Mi Mi Vabbè Lasciamo perdere Vabbè Lasciamo perdere Vabbè 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 Cioè Puoi farmi qualcosa Soltanto se frana fallisce Sì Me la voglio chiamare Ragazzi Ora frana Mi sento che fallirà Psicologia inversa Psicologia inversa E Opla Va bene Quanta esperienza Non è possibile Dammi i grandi soldoni Della vita Credo di aver capito Il motivo della sconfitta Erai quasi Per sfruttare Il massimo potere Solo se usati insieme A Chiogre e Graudon Ecco perché Era insieme a loro Andiamo a catturarli Questa volta ci riusciremo A presto ragazzo Dovevano fare Uno script migliore Per fare in modo Di andare prima qui E poi Nella grotta Dove c'erano appunto Chiogre e Graudon Chiogre e Graudon Insomma Quella roba là Qui la cosa Si sta facendo seria Devo subito Parlarne con qualcuno Eh sì Devo proprio Parlarne con qualcuno Peccato che l'ho già fatto Mannagge Ah scendiamo va A valle Anche Tiranita Potrebbe essere Mato su con Dei Pokémon Selvatozzi Selvatozzi Che cazzo ho detto Che cazzo ho detto Anche Cacturn Però Proviamo a mettere Machamp Beh ecco ragazzi Conoscete benissimo La mia Fiffazione Come direbbe Giovanotti Oh Bue Faffanculo Gioco mi fai fare qualcosa Per favore Ora ho praticamente Due strade Plausibili da fare Ovvero Potrei andare su Per il percorso 122 Guardo subito Se si può fare Ah ciao Ducklet Ducklet che non sei Ducklet Vediamo Oh Ottimo Ok Però io vorrei provare A vedere Utilizzando Un repellente Oh mio dio Li uso repellenti Perché i Pokémon Sono troppo bassi Di livello ragazzi Non troverò mai Una zona Dove li ho allenati Una zona come quella Già finito Beh non importa Ora non ci sono più Pokémon selvatici A parte Questo puntino qui Ti prego Uff No all'ultimo Digas vai Mo ti ammazzo Vediamo se può andare avanti Ah ok Quindi Opla Ho fatto bene ragazzi Molto bene Non ci sono strumenti Oh mio dio Eh ma se io trollassi No no ok E' anti troll Cazzo Ma ma visto Disfruggita proprio Ciao bellezza 72 Una bella vendetta Dicevo una bella vendetta E tutti a casa Si vai per Ma potrei restare anche con Machamp Facciamo una forza Beh tanto non puoi avvelenarmi Però ho fatto brutto colpo E sono rimasto paralizzato Quindi Zaino Antiparalisi Finché non Ah no C'ho le cure totali Beh si dai Usiamo la cura totale Dai Qui non si poteva No ok Scusate Oh De bacchina Questa La bacca stagna è utile Questa è la bacca frago Questa dovrebbe essere la bacca perina Esatto Questa non so cosa sia però Ah Confusione baccacchi Ottimo E qua Ah Cazzo Il PS su Beh potrei buttare via la calmanella Non c'ho bisogno di amicizia C'è una serie che devo finire basta Dai Poi alla fine tutta roba che devo vendere Zium Ottimo Oh guard the war Mi dispiace Il braccio contro la mente Merda Non posso fare niente Devo cambiare per forza Guard the war Tu provaci a fare maledizione E giuro che ti plano nel culo Ok Eh no ma dai hai perso Non me lo sarei mai aspettato Ah ok La fantasia di questo cartello è ineguagliabile Qui mi ricordo che c'era l'erba alta Merida al 46 Line 1 al 45 Eh i pokemon li trovavo in quel percorso al 50 qualcosa Weeping bell Dove dare un bel po' di esperienza Non così Eh infatti era quello che intendevo Di più di line Si dai per fare esperienza qui non è malvagio Ovviamente Oh mio dio Uno snorlax Catturarlo sarà la cosa più difficile che esista C'ha avanzi C'ha avanzi Potrei Potrei prendermi un avanzi Ok ragazzi Io ora userò una sola megaball per catturarlo E ricaricherò la slot finchè non lo catturo Ma non per tutto il tempo Non posso mai Non posso Cazzo Perdonatemi ragazzi se faccio così Anzi c'ho le ultra bolle Ancora meglio Scusate ragazzi Ma io voglio quegli avanzi Mi dispiace Ma io voglio quegli avanzi Non starò tanto Lo prometto Altri 2-3 minuti Merda di quella Voglio avanzi Non mi interessa tanto per il pokemon Mi interessa per gli avanzi Mio tutto mio Tutto mio Tutto mio I miei leftovers Buono 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 Che poi voglio controllare Sul pokemon central wiki La probabilità che uno snorlax selvatico Tenga avanzi A meno che non sia stata modificata Su questa chrome Un masquerain Con le ottero acqua Typing alquanto Raro Se non unico Farfetched Ho sempre odiato questo pokemon Perché su rosso e fuoco E verde foglia Te ne scambiano uno Che si chiama Cheding Che cazzo Di soprano match Ding Ora me lo spiegate No ma non si vede che sto mandando Machamp al 94 Così anche da vedere i pokemon Segratici che si trovano ragazzi Mi raccomando Ok Forse basterà questo whipping bell Ottimo Veramente Allora controlliamo Mancherebbe Camerat L'unico che posso allenare È guard e guar E anche tiranitar Dai possiamo essere Buonanimi Buonanimo Si dice così Non lo so Ho un dubbio Sapete uno di quei dubbi Se una parola esiste o meno Beh ci ho messo anche poco Allora qui ci sono Sei bacca pesca Avvelenamento E lei ti dà una bacca Indipendentemente da quello che tu le risponda Prendi una bacca Dall'alto pokemon E sensi che ho segno d'affetto La bacca kiwi È rara Sì lo so Ma che cavolo fa Una sola Ah è quella bacca Che se il gusto Pepato Secco È quello che il pokemon odia Può confondere appunto Io però vado qua sopra però E mi prendo queste baccozze Bacca pera è inutile La bacca nanaspure Questa è la baccabana Ed è pure inutile E la bacca lampon Stavo per dire baccamora Scusate Cura totale Ok Ne ho recuperata una All'ultimo quadretto Qui mi sa che livello Non è stato cambiato Qui c'è uno di quelli Ninja boy Sì ninja boy Mi ricordavo giusto Trabbish Psichico E bella finita Garbodor No ninja Non fallire Ottimo Non puoi resistere A mio psichico Quanti soldi ho fatto Per due pochi dollari E non arrivavo a 200.000 Oh mio dio Censi Allora con un psichico Gli tolgo Ok penso che basti un calmamente Per non spercare Psichico ragazzi Perfetto Censi Ok si è la ricerca Delle antiche rovine Si riferisce a quella Che ci sono tra due passi Genio del male Onyx Non ha difesa speciale Sandslash Stessa cosa Però mi prudo un braccio E mi devo grattare Le grandi braccia Che mi prudono Boris Allora Allora Ok Qui dovrebbe esserci Registri Se non mi sbaglio Mi torna in mente La mia serie Che ho fatto su Zaffiro Il mio primo let's play Persian L'evoluzione Di Miao Appunto Bellossom Si vorrei salire All'88 Anche con Gardevoir Però l'unico modo È fare Mangiasogni Lì Quella natura Non l'ho ancora sconfitto Però Meryl Non mi dà un Q Di esperienza Devo fare ipnosi Sperando che non fallisca Ovviamente non posso Sovrascrivere tante slot Perché non sarebbe corretto Cosa che faccio Molto off camera Per quanto riguarda L'allenamento dei pokemon Ma che Mi dispiacerebbe fare Non off camera Mentre registro appunto Cazzo Ovviamente adesso Recupero i ps Non importa Oh Perfetto Ehm Ok Allora Uffa Beh intanto Meryl Non lo sconfiggo Oh mio dio La Iperpozione Ne ho una sola Vero Ho tre iperpozioni Ah ne avevo quindi Per quanto riguarda Lo scontro contro Rayquaza Se fosse stato più difficile Allora Posso mandare su Di un altro livello Gardevoir E mi sa che tra poco Stopperò anche il video Perché sono quasi Arrivato a 20 minuti E vi ripeto Che devo farlo Sì giusto Uomo di poche parole Ah merda Devo porto a fare Mangiassogni Non importa dai E vi ripeto Che devo fare video Un po' più corti Così almeno Da renderli Meno pesanti Proprio di peso Di mega Perché vi ripeto Ragazzi Per pochi Minuti C'è una grande differenza Ve lo giuro ragazzi È una cosa strana Da spiegare Mangiassogni E gnamete Ok Ho perso Quanti soldi Mi ha dato Sono ricco Mi ricordo che Su Rubino Omega E su Zaffiro Alpha C'era Una grotta Qui Mi sa che era Quella di Itran Che ho giocato Pochissimo ovviamente Allora da qui Non si può tornare indietro Esatto Solo da qua Ah beh si giusto C'era l'erba alta Qui No Lo zaino pieno Mannaggia E adesso cosa faccio È un problemozzo Allora Beh intanto Mando Camerut Perché Non posso ancora Non posso Usare Mangiassogni Per sempre Però Vorrei vedere Altri Pokémon Selvatici Se è possibile Beh sono Quasi arrivato A Forestopoli La nota positiva Sono quasi Quasi arrivato A Forestopoli Ergo Dovrei riuscire A battere la palestra Nel prossimo episodio Perché queste I naturi che mancano Sono pochi Sinceramente Io vorrei salire Con Con i Pokémon Selvatici Di qualche livellino Con tutti quanti Ovviamente Solo che Per curarmi la squadra Dovrei tornare A ciclamipoli E non C'ho proprio La voglia Quindi Mi sa che Leno un po' I Pokémon E Mi è venuto Un po' di mal di testa Ragazzi Non sto scherzando Sì Mi gira un po' la testa Beh potrei Penso che tornerò A ciclamipoli Da curare Per curare la squadra Vendere gli strumenti E così avere lo spazio Per prendermi quella pepita Quindi ragazzi Mi sa che stoppo In questo momento L'episodio Anche perché Vi ripeto che La mia stanza Non posso sconfiggere Mia E dai Non mi fa scappare Perché Forse si era affezionato E dicevo La mia stanza È la stanza Più calda Della mia Oh Quattro tavolo speciale Bueno La mia stanza È la stanza Più calda Di tutta la casa E Ho la porta chiusa Anche se Sono da solo in casa Però mi dispiacerebbe Che Che so I miei tornassero E mi sentissero parlare Per cui Non voglio Non voglio E per cui Sto parlando a voce alta Da 20 minuti Mi fa un po' Mi gira un po' la testa Ora mi rilasso un po' E Metto subito a montare questo video Credo che c'è ancora un po' Ho mosso il microfono Perché mi stavo sfregando le mani Giocherò un po' con il 3ds Quindi ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Nel prossimo episodio Troverete la squadra Leggermente allenata Li porterò su di un livello Circa Due o tre membri della squadra E Poi venderò gli strumenti Off camera La curerò la squadra E mi troverete Penso Vicino Sì Nell'erba mi troverete Così la prendere subito La pepita Nel prossimo episodio Sconfiggerò gli allenatori E dovrei riuscire anche a battere La palestra di Forestopoli La sesta Barra settima Sesta palestra Barra punto Settima medaglia Anche se in realtà È la sesta in regola Io ho superato 200.000 poche dollari Buono così Al prossimo video ragazzi Ciao a tutti Cosa laghi